In Lombardia per quest'anno non sarà possibile la caccia in derogale specie Pispola, Frosone, Peppola, Storno, Prispolone e Fringuello. Il Consiglio regionale ha infatti approvato a scrutinio segreto, con ampia maggioranza, 39 voti a favore e 24 contrari, una stensione, una questione pregiudiziale posta da Sinistra Ecologia e Libertà e dall'Italia dei Valori. La scorsa settimana il provvedimento era stato invece approvato all'unanimità dalla Commissione Agricoltura. Il Presidente della Commissione, nonché relatore del provvedimento, il Bergamasco Carlo Saffiodi del PDL, aveva lanciato un appello ai colleghi affinché respingessero la pregiudiziale, definendo il provvedimento di buonsenso, che teneva conto della relazione della Commissione regionale di esperti in campo giuridico, faunistico ed ornitologico appositamente costituita dalla Giunta e che evidenziava la costituzionalità della legge Lombarda in materia venatoria. Il Consiglio ha invece votato in modo differente. Il capogruppo dell'Italia dei Valori, Stefano Zamponi, ha detto che con il voto dell'Aula sulla questione pregiudiziale ha vinto la legalità. Formigoni aveva in più occasioni invitato il Consiglio regionale a non legiferare più sulla caccia inderoga, ma nonostante questa indicazione, la maggioranza sembrava voler sfidare ancora una volta la Corte Costituzionale, l'Unione Europea, il Parlamento nazionale e il segretario della Giunta regionale, che pochi giorni fa aveva giudicato inopportuno questo progetto di legge. Finalmente in Lombardia si caccerà secondo le regole, ha aggiunto il consigliere regionale dell'Italia dei Valori, Francesco Patitucci. Noi non abbiamo chiesto di penalizzare i cacciatori, ma solo di rispettare la legge. Fabrizio Sant'Antonio, a nome del gruppo del Partito Democratico, aveva annunciato voto favorevole alla pregiudiziale, sostenendo che un provvedimento come questo è percepito da tutti come una prevaricazione e costituisce un danno per l'immagine della pratica venatoria. Non è giusto accollare alla comunità intera il pagamento di milioni di euro di penali e sanzioni per il mancato rispetto delle regole. Il capogruppo della Lega Nord, Stefano Galli, in un comunicato, afferma che la Lega ha votato in maniera compatta a difesa dei cacciatori lombardi. La Lega è dalla parte dei cacciatori che hanno manifestato di fronte al pirellone e che rappresentano una categoria della popolazione lombarda che la Lega ha sempre guardato con attenzione. Galli ha assicurato che coloro che hanno deliberatamente deciso di non approvare le deroghe per l'attività venatoria non stanno sul carroccio. Il Consiglio regionale ha invece approvato il provvedimento che consente l'utilizzo di richiami vivi della stessa specie purché provenienti da allevamenti in cattività o precedentemente catturati e inanellati dalle province e dalle stesse distribuite ai cacciatori. Nelle dichiarazioni di voto si sono espressi a favore i gruppi PDL, Lega Nord e Udc, astenuti i consiglieri del PD, Contrari, Sinistra Ecologia e Libertà e Italia dei Valori. Il provvedimento ha ottenuto 43 voti a favore, 10 contrari e 7 astenuti. Sono stati respinti una questione pregiudiziale, 4 ordini del giorno e 99 emendamenti presentati dal gruppo dell'Italia dei Valori.